Trieste ! Finalmente l'attesa fumata bianca. La pallacanestro Trieste 2004 passa sotto il controllo di Alma, il main sponsor che diventa socio di maggioranza con una quota pari al 53% e avrà l'onere di coprire la perdita, il famoso debito di cui tanto vi abbiamo parlato, garantendo solidità ad una società che per la prima volta, potrà così far scattare la stagione sportiva senza patemi d'animo. Nella serata di ieri Trieste entra in gioco, ha avallato la controproposta di Alma, sancendo così la fine della querelle che aveva stallato l'operatività della palacanestro Trieste. Se ad Alma andrà la maggioranza, ai soci del gruppo, che ha indicato in Marzini la propria figura di riferimento e comunicazione, che rimane presidente, resteranno il 25 o il 30 per cento delle quote, sulla base della permanenza o meno di Brugnaro in società e del suo diritto a esercitare la prelazione sulle quote, dettaglio da definire nei prossimi giorni. Nel CDA 5, peraltro, i triestini manterranno anche due consiglieri di amministrazione. Alma, rappresentata come noto dal procuratore Gianluca Mauro, ha accettato anche i famosi paletti chiesti dalla controparte a garanzia della triestinità. In primis, il socio di maggioranza si impegna a non vendere il titolo sportivo e a non spostare la società fuori da Trieste senza il consenso di Trieste entra in gioco e garantisce che, qualora lo sponsor dovesse, passateci il termine, stancarsi del suo ruolo nella compagine societaria, di lasciare la categoria sportiva Trieste entra in gioco, garantendo il titolo sportivo nella seconda serie nazionale, quella attuale. Tutta l'operazione dovrebbe essere sancita con un brindisi collettivo che bagnerà la conferenza stampa preannunciata per lunedì, dove peraltro verrà anche presentata la nuova guardia americana con cui Mario Ghiacci ha già trovato l'intesa. Vicinissima anche la firma di un pivot italiano di alto livello, anche se, visto il cambio al vertice della pallacanestro Trieste, proprietà e staff tecnico dovranno vedersi, confrontarsi a quattro occhi e condividere le strategie per il futuro. Nel medio termine, infatti, gli obiettivi sono ambiziosi, pur tenendo fermo il caposaldo del lavoro con i giovani del vivaio.